Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Ma perché lei lo voleva tenere per tutta la vita? Mi scusi. Non sappiamo cosa ci sarà. Ma lei lo voleva tenere per tutta la vita? Non è così il reddito di città di inizio. Onorevole Ronsulli, quando risolvete il problema della povertà... Vergogna! Quando risolvete il problema della povertà... Ma veramente lo dovete risolvere voi. Siccome il problema della povertà non ha fatto nessuna soluzione. Ma se siete andati voi a dire che l'avete risolto, voi siete stati voi a dire che l'avete risolto. È un controsenso dal punto di vista logico, no? Prima si risolve la povertà e poi si allineano le sue funzioni. Voi avete detto che l'avete già risolto, non mi pare sia risolto. E' un conto di potenzione sociale. E' venire in conto con la sua sincera risposta. E' pronto a raccontare queste storie. Con le persone che sono in studio che mi parla adesso non riesco a ragionare. Dica la verità italiana. Vado in pubblicità. Quando torno, torno da lei. Perché se no appunto non riusciamo a uscirne. Voi resta lontano, senza ritorno. Quindi pubblicità. Perchè.